bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di monster89 siamo tornati qui in questo nuovo video dove andremo a fare non i mazzi casuali l'ho fatto un mazzo un mazzo andremo a fare un altro mazzo casuale giusto per vedere il deck casuale per andare poi a farci una partita perché c'è un altro deck l'avete visto prima no? un deck buono non riesco a ricordarmelo lo sapete ragazzi con l'applicazione comunque l'ho tolta perché mi rompevo un po' le scatoline potrebbe andare bene questo no 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 raga e vabbè sto da tre ore qua cercare che cavolo almeno una cosa possiamo usare questo sapete sì allora è questo qua stre omega sgherro fulmine mi è venuto in mente fulmine spiritello del ghiaccio estrattore madonna mia sperando che non me lo tolgano così velocemente l'estrattore se sono buoni me li tengo cioè avete capito no dove sta allora vediamo un poco ok gigante royale potrei mettere poi gli scorsi qua questo è il deck lo andremo a provare però prima andiamo a farci una partita con questo no 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 raga comunque mi devo segnare questi ho il giro dei bauli no è praticamente ad ogni ecco tua mamma tua mamma mamma mia raga come come un mostro mi sono in difesa adesso sperando che non all'ordine è veramente tua mamma eh va bene così va bene così eh sì e no eh sì e no sperando che il boscaiolo valla sotto niente e tieni stime colpe di merda tieniteli tieniteli belli carucci carucci ciò tieniteli subito la fornace la mettiamo più in sotto sbaglio da questa parte quella parte merda allora 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 potrei fare così potrei fare così raga non sto giocando raga raga non sto giocando più raga oh raga oh raga oh raga ma sti cavoli dai andiamo a a a fare la cacca andiamo andiamo a fare la cacca andiamo ciao dai andiamo guarda la mini pecca attenzione attenzione eh 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 che ne pensi ah raga è la prima 3 a 0 ma va a cagare vai 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 per favore dai eh sì sì mi pare che il ciclo dei bauli sta andando molto bene raga il ciclo dei bauli sta andando sta andando bene sentite io non so se fanno una partita con questo ma non credo vabbè facciamolocela con questo un'altra partita giusto per giusto per vedere perché se vincevo con questo facciamo altre due battaglie con questo per carità mazzo 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 vincente non si cambia c'è no e si ma non mi sta rompere il brazzo eh state attenti che altro e mettere tu manna tu nonna tu sorella eh che uno lo può dire e ce ne facciamo sapete no eh raga eh sticca apri eh eh mi sta proprio scassa il brazzo niente raga eh questo ho un deck proprio da per contrastarmi il culo eh però io metterei una fornacella se va di là pezzo di merda no raga raga eh che cos'è questo sta consumando più lisir di me io ho messo solamente una fornace in tronchetto c'è per dire eh per carità santo dio per carità eh non frantendio non frantendio subito lui colui subito il boscaiolo dietro è tutto velocello tutto velocello raga non sa cosa mettere lo giuro non sa cosa mettere dalle una carità quello la fargli vedere no eh raga eh sappiamo noi no allora per favore santa cari d'asse oh porco il culo no raga che cos'è qua che dobbiamo fare l'america oh allora tu hai consumato 11 no io non ho consumato fin troppo per carità raga siate onesti eh onestissimi subito il tronchetto qua che facciamo piazza pulita di sta merda qua eh su dai eh sì va bene non è che devi fare santa maria madre di dio prega per noi peccatori eh massacca oh ammazza ma ho fatto fuori la fornace sto pezzo di merda ammazza oh e vabbè ma non avrei più elisi per difenderti porco di dio se una carità eh una carità una carità su qua vedi mo si ragione molto meglio allora raga questo pezzo di merda non ci farà andare più avanti no però io genio genus genus genuso ho progettato questo attacco no e lo andiamo a a vincere c'è se tu mi dici no 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 non vincerai mai co 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 ecco io mi vedo a fare un'altra partita cioè raga mazzo vincente non si cambia mano lo sapete no mi manca un altro baule per per vedere sto 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 pizza non mi says no no c'è Sì, sì, ma l'amatore più furia Ma non è la bomba La bomba un corno, raga La bomba un corno Dai, l'arrento Non deve morire Il mio gattino Questa, raga, questa Questa, eh, questa È forte, è forte Immaggia se è forte Non devo consumare il tronco Non devo consumare il tronco Eccola Eccola Mazzola Ma l'ha fatto fuori Sono Che ti avevo visto Veramente l'aria marina Dio, la carità Dio, 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 Dio Dimmi, qua, che c'è? Ho tolto la buce? Sì, sì, ho tolto la buce A terra La bucezza non si può? No, no, no Non tanto Eh sì Sì, mamma, sta dormendo Vai, vai nella stanza di sterti Beh? No, nel sterti Lo stai facendo Quanto tu? Sì Sì, ho capito Sì, sì Mamma, tu sarai Mamma, tu mamma E tu, 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 eh? Ammazza, oh, ammazza 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 Oh, ragà Neanche natore Bello, 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 bello Bello, bello, bello 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 il suo mazzo Bello Siamo onesti Bello È stato bello Mi manca questo Slot Quindi io andrei a fare questo Sì Andrei proprio a provarmi questo Giù, ragazzi Come perdo con questo Mi mando a quel paese Tutti quanti Tutti 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 Questo video Lo leccolo Eccola 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 Ammazza Sta scintilla La trovo ovunque Non c'è il deck In cui non la trova No Oh, prendi a quello Prendi a quello Ammazza 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 Ok Oh, povero mega sgherro È andato là Tutto 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 Quale se ci ha fatto male Molto forte Molto forte Molto forte Molto forte Però lui ha sprecato Io ho bisogno Dell'estrattore Estrattore di merda Cazza Cazza Con carità Con carità Con carità Ammazzalo Ammazzala Mannaggia Mannaggia Eppure di livello 10 Questo qua Non l'avevo neanche notato No, raga Mi servono le frecce Come devo fare Ditemelo voi Come devo fare Se voi mi sapete dire Come fare Io seri super 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 Contentissimo Ok Eccola Ammazza Eh Porca Ci ha riduto Tu proprio Tu vedi A quel paese Guarda 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 E vabbè Raga Raga E' Il gioco Che te li fa Perdere Tutti In maniera Lusia Però spara Che Ecca Ma Io sto parlando Sparare Allora Voglio Fortissimo Sto incontrando Tutti quelli Fortissimi Ma niente Raga Bisogna Le frecce Cioè Io Come faccio Contrastarti Un decco Micidiale Così Con un mazzo Di merda Va bene Si trovano Solamente Scintille Io direi Che l'appuntamento Eccola Io direi Che l'appuntamento Di oggi Può finire Qua Se il video Vi è piaciuto Lasciate un bel Mi piace Raggiungermi Tre mi piace Vi porterò Se Raggiungiamo Giustesso Vi porterò Un nuovo video Istantaneamente Grazie